Perché è meglio non stringere i collarini dei freni con troppa forza al manubrio? La risposta potete vederlo in questo dettaglio, infatti il serbatoio del mio freno XTR è segnato perché due giorni fa sono caduto malamente su delle rocce però il freno non si è rotto perché non era stretto alla morte, infatti si è girato verso il basso e in questo modo ho evitato danni più gravi. Ovviamente la coppia di fissaggio deve essere sufficiente per poter cambiare e alzare e abbassare il reggisella telescopico senza che il freno si giri, quindi fate un po' di prove. Quando vedete che con due mani riuscite a girare il freno ma con una mano sola invece quasi non ci riuscite beh questa è la coppia di sterraggio giusta.